Adesso vi proponiamo una storia. Il borgo di Clauiano nel comune di Trivignano Udinese ha ospitato un gruppo di artisti che hanno creato delle opere d'arte esposte da ieri sera nella resegna paesana che combina arte e gastronomia. Ma alcuni disegni sono stati considerati dal sindaco Osè e sono stati per così dire relegati dietro una porta il cui accesso è riservato, così si sta scritto, solo agli adulti. La mostra resterà aperta ancora per un mese. Noi siamo andati a vedere il servizio di Nadaciocco. Il borgo di Clauiano per la sua rassegna che combina l'arte con la gastronomia per quest'anno si è fatto ancora più bello con l'inaugurazione del nuovo spazio espositivo che ospita le opere di una decina di artisti europei che per alcuni giorni a giugno hanno condiviso la vita del paese e seguito dei laboratori con Adrian Paci sulla naturalezza. Qualcuno ne ha esplorato i limiti con recinzioni elettriche e macchine industriali per la macellazione degli animali. La modella, specifica però l'artista, è stata salvata da un allevamento intensivo. Esistenza sicuramente più cruda di quella breve dei piccioni a rischio di epidemie. La morte messa a nudo nella sua definitiva immobilità. Ma è quanto rimane nascosto a incuriosire e ad attrarre tutti. Nel 2011 non ne sembra di esagerare un po'. Abbiamo ritenuto che il contesto rurale, locale, non era adeguato a tutti gli spettatori. Abbiamo ritenuto che alcune opere dovevano in qualche maniera essere un po' censurate. Tutti è venuto in mente l'origine del mondo di Courbet, nel Museo d'Orsay. Al Museo d'Orsay ci vanno bambini di tre anni anche. Questi sono quasi ironici per certi versi e lei li censura. Io penso che ancora il Friuli Venezia Giulia, come la realtà locale, debba mantenere un minimo di dignitosità. La scelta di relegare i disegni del friulano Ritz Monnet e un olio su tela di Veliszczek a uno sgabuzzino non ha convinto il curatore della mostra. Non trovo fuori luogo e non trovo osceno quello che gli artisti hanno rappresentato, sia nel caso del porno con gli attori vestiti da nazisti, sia nel caso degli uomini e animali si direttono insieme. Trovo molto più osceno, per esempio, che alle 4 del pomeriggio per la televisione nazionale ci siano delle donne trattate come degli oggetti.